giovedì 21 dicembre 2017 dal vangelo secondo luca capitolo primo versetti da 39 a 45 in quei giorni maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di giuda entrata nella casa di zaccaria salutò elisabetta appena elisabetta ebbe udito il saluto di maria il bambino sussultò nel suo grembo elisabetta fu colmata di spirito santo ed esclamò gran voce benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo a che cosa devo che la madre del mio signore venga da me ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo e beata con lei che ha creduto nel radempimento di ciò che il signore le ha detto cari amici gesù è il sole divino la sua nascita paragonata al sorgere del sole all'alba di un giorno radioso così canta infatti l'antifona maggiore di oggi o astro che sorgi splendore della luce eterna sole di giustizia vieni illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte la cosa più sorprendente è che dio venendo nel mondo non suona alcuna tromba davanti a sé tutto avviene una semplicità disarmante e nel silenzio totale di qualsiasi voce mondana sembra che dio non voglia disturbare nessuno viene quasi in punta di piedi facendosi povero tra i poveri della terra eppure noi che sappiamo cosa succede possiamo ragione cantare e invocare vieni illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte così dio cambia la storia colui che ha creato il mondo non ha bisogno di ricevere gloria dagli uomini la sua missione è per la nostra salvezza e questa salvezza costerà cara al nostro dio scrive san paolo in prima corinti 11 siete stati lavati siete stati santificati siete stati giustificati nel nome del signore gesù cristo e nello spirito del nostro dio e al versetto 20 ricorda siete stati comprati a caro prezzo san pietro approfondisce spiega ancora meglio il concetto prima lettera di pietro 1 18 19 voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri ma con il sangue prezioso di cristo come di agnello senza difetti e senza macchia colui che indicherà il mondo l'agnello di dio che toglie i peccati del mondo giovanni battista riceve la visita di gesù in anteprima e la sua gioia lo fa sobbalzare nel grembo di sua madre elisabetta beata tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo esclama elisabetta salutando maria sono fatti talmente grandi da diventare l'oggetto costante della nostra preghiera l'ave maria nella prima parte è composta dal saluto angelico ave o maria piena di grazia il signore è con te e poi dal saluto di elisabetta tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo la beatitudine di maria giustamente sottolineata da elisabetta è la fede sì o maria tu sei veramente beata perché hai creduto nell'adempimento di ciò che il signore ti ha detto dio vi benedica per l'intercessione di maria